Buon sabato, buon sabato ragazzi, io non so in che altro modo iniziare questo video se non buon sabato perché ero già partito con il presupposto di farne tutto un altro, cioè avevo già un copione in testa differente che proverò a modificare in corso d'opera, non sarà facile, però la prima cosa che ho letto questa mattina appena sveglio è maxi offerta dall'Arabia per Massimiliano Allegri, ci sarà un vertice a Monte Carlo tra oggi e domani per cercare di capire se ci saranno i presupposti di spostare la legge dalla panchina bianconera a una panchina del campionato di Arabia Saudita e ragazzi questa cosa è, non dico che sia clamorosa, questa cosa è la cosa più clamorosa che possa accadere, mai era venuta fuori un'indiscrezione di questo tipo, mai era venuta fuori una ricostruzione del genere quindi vediamo cosa succede, questa è un'indiscrezione di Gazzetta dello Sport, articolo scritto a Filippo Cornacchia ce l'ho qui, quindi me lo posso leggere e ve lo leggerò, anche perché oggi è la giornata di una finale di Champions League del Manchester City, degli scecchi e attenzione che altri scecchi invece potrebbero cercare di portare Massimiliano Allegri in Arabia e i club sono due, si parla del club di Cristiano Ronaldo, non sono un massimo esperto del campionato arabo quindi andrò a leggere, vi chiedo già scusi in anticipo, l'Al Nasr di Ronaldo che ha generato Rudy Garcia, lo sapete e starebbe cercando un altro allenatore ma io credo anche che sia abbastanza improbabile che Ronaldo possa dare il benestare e credo che Ronaldo all'interno di quel club abbia un peso politico non indifferente per il ritorno di Allegri visto poi come, cos'era successo nel momento in cui Allegri era tornato alla Juventus quando Ronaldo era lì quindi credo che sia un po' complicato, invece l'altro è l'Al Hilal che, testuali parole, senza successo aveva tentato Lionel Messi con un benare a 500 milioni a stagione, tra l'altro questo club nei giorni scorsi aveva parlato pure con Tite, l'exciti del Brasile, quindi sembra proprio che l'idea possa essere quella di mettere in panchina un nome big e la suggestione di poter vedere Allegri contro Ronaldo o Ronaldo con Allegri ancora una volta inizia ad essere forte, quindi attenzione vediamo che cosa accadrà, questa è veramente una notizia non bomba non bomba ma di più perché questo cambia tutti i scenari ragazzi, fino adesso abbiamo fatto i conti senza l'oste perché l'oste, cioè Massimiliano Allegri, ci aveva detto in più di un'occasione che la sua volontà era quella di rimanere alla Juventus ad oggi Allegri guadagna 7, 8, 9 milioni, non è ancora chiarita questa cosa perché potrebbero essere semplicemente 7 più bonus facilmente raggiungibili, si è calcolato che per le prossime due stagioni serviranno circa 40 milioni per pagare lo stipendio di Massimiliano Allegri, talento, lordo, staff, bonus e robe di questo tipo quindi questa dovrebbe essere la cifra che balla, 40 milioni per due anni, 40 milioni dei club del genere per cercare di convincere dei nomi del genere li tirano fuori anche in una singola stagione quindi se davvero il problema erano i soldi, se davvero l'unica cosa che poteva legare Allegri a Juventus e se davvero questa notizia sarà confermata, beh il problema economico non esiste più anche perché Allegri e Juventus andranno a discutere per una recessione consensuale del contratto o una piccolissima buona uscita proprio perché poi il discorso economico passerebbe in secondo piano e Allegri andrebbe semplicemente a firmare questo nuovo contratto per diventare il mister di uno di questi club che stanno cercando di attirare sempre più tifosi utilizzando i nomi dei calciatori ora Allegri non mi sembra nemmeno il tipo di allenatore ideale in realtà per un progetto del genere perché credo che la volontà sia quella di creare un vero e proprio spettacolo e Allegri stesso per anni ha parlato di... anzi c'è stata quella classica battuta se uno vuole divertirsi che vada al circo non credo che i tifosi del campionato arabo ovviamente con questa volontà di ricreare questo movimento, questo entusiasmo possano accettare una risposta del genere però vediamo, io ritengo anche abbastanza improbabile questa cosa qui perché Allegri mi sembra uno molto abitudinario mi sembra anche un allenatore che adora la sua routine, che adora la sua tranquillità che ha piacere anche magari a rientrare a casa a Livorno dove ha lasciato un legame indelebile con la città la città spesso quindi io sinceramente pensare ad Allegri che possa andare ad allenare il campionato arabo sia per quelle che sono magari le volontà, le necessità di chi va a creare quelle squadre sia per la volontà di Massimiliano Allegri mi sembra un po' eccessivo anche perché io credo che Allegri abbia grosse ambizioni io tante volte dico è un testardo, è uno con la testa dura quindi se rimane perché vuol dimostrare, perché vuol vincere io non so quanto stimolo potrebbe trovare Allegri in un campionato di questo tipo qua però ripeto, poi i soldi ragazzi comprano tutto hanno comprato Cristiano Ronaldo, hanno comprato Karim Benzema hanno comprato Messi, campionati diversi certo, quello che volete però tutti questi nomi sono giocatori che fino a qualche anno fa dominava le Champions League oggi sono giocatori che lasciano i vari United, Barcellona, PSG, Real Madrid, Juventus e vanno a giocare in club che qualche anno fa nemmeno esistevano e in campionati che sicuramente non hanno un tasso di competitività così elevato quindi i soldi ragazzi fanno la differenza anche perché nei giorni scorsi qualcuno mi aveva detto Allegri non ama la Juve perché se davvero amasse la Juve rinuncerebbe a quei soldi io ragazzi sinceramente a 40 milioni di euro in due anni non rinuncerei per il semplice fatto che nessuno ha puntato la pistola alla Tempia della Juventus per far sottoscrivere quel contratto ad Allegri quindi Allegri a potere contrattuale secondo me ha completamente ragione nel voler cercare di far valere quelli che sono i suoi diritti perché sono i suoi diritti la prossima volta semplicemente ci si pensa due volte prima di fare un contratto di questo tipo qua Allegri da questo punto di vista ha completamente ragione non ha ragione, ha più che ragione quindi se davvero il problema era nei soldi e se davvero questa offerta verrà confermato se davvero ci sarà questo summit basta aspettare pochissime ore perché ormai ci siamo perché è ovvio che si mettono sul tavolo che ne so 40-50 milioni di euro a stagione gli dici di no? secondo me no nonostante le ambizioni nonostante l'essere vicino a casa secondo me no quindi vediamo perché se Allegri arriva a rinunciare a questa offerta a 40-50 milioni per rimanere la Juventus allora lì penso proprio che si possa dire che rimane perfetto cosa che ripeto secondo me l'affetto di Allegri in confronto della Juve c'è poi l'amore secondo me è un'altra roba che diventa un po' più complicata da analizzare per i professionisti però questa è la ricostruzione che ha fatto Gazzetta questo è anche il mio commento la vedo difficile però delle cifre del genere prendono e portano fuori da qualsiasi logica e proprio di logica voglio parlare perché in questi giorni ci ho pensato molto alle parole di Scanavino io da sempre e lo ripeto per l'ennesima volta perché ogni tanto nei commenti forse qualcuno questa cosa non l'ha ben chiara o non ascolta non lo vuole capire io non do notizie io quando vi dico secondo me cadrà questo, questo o quell'altro è perché utilizzo la logica semplicemente e da anni faccio così avevo indovinato l'arrivo di Sarri in panchina avevo indovinato l'arrivo di Pirlo in panchina avevo indovinato l'esonero di Pirlo non quello di Sarri mi aspettavo che si andasse avanti avevo indovinato tra virgolette il ritorno di Allegri quindi utilizzando la logica negli anni è sempre stato non dico facile però prevedibile il futuro della Juventus e quest'anno usando la logica vi ho detto tutti gli anni che Allegri avrebbe lasciato la panchina della Juve quindi quelle parole di Scanavino mi avevano anche abbastanza sorpreso stupito lo ricorderete vi dicevo ragazzi sono proprio caduto dal pero sono stato convinto tutto il tempo che Allegri potesse lasciare la Juve la conferma la parte della Juventus stessa mi sembra qualcosa di allucinante e tuttora non me la spiego giuro tuttora non me la spiego perché semplicemente sarebbe bastato stare zitti nel caso nessuno anche qua ha puntato una pistola alla testa di Scanavino e ha detto vai a parlare di queste cose a meno che Juventus non volesse prendere tempo e mettere tra virgolette una pezza una toppa su questo buco in attesa di sviluppi se questa notizia sarà confermata per capire che cosa vorrà fare Allegri in primis perché un conto è esonerarlo e dargli 40 milioni di euro per i prossimi due anni un conto e se lui ha un'offerta e sta aspettando questa offerta e quindi magari è lui a chiedere di andare via sono due cose completamente diverse ballano 40 milioni di euro sì 40 milioni di euro no allora attenzione che le parole di Scanavino dopo oggi possono avere un senso intanto calmiamo la piazza calmiamo i tifosi che sono aizzati poi ci guardiamo poi ne parliamo io lo dicevo anche ieri io non difficilmente ho creduto a una sorta di teoria del complotto di cose che Scanavino la mette lì per mettere allegri contro i tifosi sembrava semplicemente una follia una roba che non poteva esistere nella Juventus poi secondo me in questo momento dentro la Juve c'è tanta confusione ci sono anche tante correnti di pensiero differenti che spingono a fare questa confusione ieri notizia che non si riscatterà Milik per 7 milioni i casi sono due o hai finito i soldi perché 7 milioni Milik lo prende tutta la vita o c'è qualcos'altro io penso anche banalmente dato che in questi giorni si è fatto il nome di Morata hai Morata non fa gol prendi Vlaovic vendi Vlaovic e riprendi Morata Milik a 7 milioni lo prendi e poi dici no vabbè è troppo chiedi uno sconto su Milik Alessandro è in scadenza di contratto lo fai giocare raggiunge le presenze rinnova e poi gli chiedi di riscindere il contratto cioè tutte queste cose messe insieme non hanno senso dal punto di vista della programmazione sportiva sono tutte cose che non hanno senso sono degli input che vanno da una parte degli input che vanno dall'altra e poi l'output generale è la confusione quindi secondo me in questo momento dentro la Juventus c'è confusione e quindi utilizzare la logica non è più efficace come prima però ve lo torno a dire la logica ti impone di pensare che Allegri sarà allontanato dalla Juve e non mi sono spiegato logicamente le parole di Scanavino fino ad oggi perché questa max offerta della rabbia potrebbe spiegare semplicemente le parole di Scanavino di ieri ripeto io tutte queste teorie del complotto del eh no perché fanno così per vedere la reazione per farlo di mettere io semplicemente queste cose non le capisco e ve le ho continuato a dire se la Juventus parla ha detto quella roba lì e quindi per la Juventus la versione ufficiale da dare la stampa che è diversa la versione ufficiale che ha la Juventus è che Allegri non è mai stato in discussione e che si andrà avanti con lui a meno che non sia lui voler fare un passo indietro perché magari c'ha già qualcosa altro in mano e da questo punto di vista ripeto tutta un'altra un'altra cosa tutta un'altra situazione vediamo vediamo anche perché in questi giorni si sta leggendo di Sule che magari va via che Chiesa potrebbe essere venduto che Vlaovic vorrebbe andare via che Rabiot forse rinnova ma molto probabilmente no vediamo Quadrado Alexandro chissà cioè dal punto di vista della squadra c'è un po' di paura no? perché sembra che adesso tutti se ne vogliono andare capirei anche una sorta di di esodo di alcuni calciatori però poi ricordiamoci che l'anno prossimo dobbiamo scendere in campo sempre utilizzando la logica e con questo concludo chi è l'allenatore che l'anno scorso all'Olympic Marsiglia decise di cedere Milik perché non lo reteneva più indispensabile dopo l'arrivo di Alexis Sanchez Igor Tudor chi è l'allenatore che di punto in bianco decide di chiudere il suo rapporto di collaborazione di lavoro con il Marsiglia così rinunciando anche un paio di milioni di euro Igor Tudor chi è l'allenatore che da mesi vi dico che secondo me sarà l'allenatore di Juventus Igor Tudor quindi illazione però se vogliamo usare la logica siamo alla fine in fondo Allegra è questa offerta dalla rabbia la Juve si tutela chiama Tudor e gli dice c'è questa situazione vedi te se questa cosa si incastra questa cosa di Allegri si incastra allora noi avremmo piacere ad averti vedi te però bisogna che ti liberi Tudor si libera Allegri è ancora qui che pensa su questa cosa della rabbia per calmare le acque la dirigenza è costretta a fare questa dichiarazione su Massimiliano Allegri anche perché poi in questi giorni è partito il rinnovo della campagna abbonamenti dei biglietti allo stadio e quindi bisognava cercare di dare una notizia al tifoso Tudor è ancora fermo c'è da parlare di Milik Tudor Milik non lo vorrebbe Allegri probabilmente sì perché Milik è stata una richiesta di Allegri e Milik è stato un epurato di Tudor e quindi Tudor è libero Milik non viene riscattato di facciata la Juventus conferma Allegri perché questo è il messaggio che deve dare per il momento e se poi Allegri accetta quell'offerta la Juve è libera Allegri Allegri è libero di firmare Tudor è libero Tudor firma per la Juventus se dobbiamo usare la logica così torna se dobbiamo usare la logica invece per dire che Scanavino i microfoni vuole volontariamente dire che Allegri sarà allenatore anche l'anno prossimo per poi esonerare due settimane dopo scusatemi a me questa non torna e non può tornare che possa essere una sorta di esperimento sociale per vedere la resta dei tifosi questa torna l'altra no nella mia testa poi magari nella testa di qualcuno torna anche con l'altra non c'è problema però per quelli che sono i presupposti che ho sempre utilizzato io questa roba qui ha senso e avrebbe veramente tanto senso e nel caso mi aspetto davvero già nelle prossime ore un annuncio da parte da Juventus di separazione di Massimiliano Allegri e un annuncio da parte di Juventus per dare il benvenuto a un nuovo allenatore che sarà Igor Tudor e ve lo dico dal 16 gennaio 2023 che Igor Tudor secondo me sarà l'allenatore della Juventus vediamo vediamo le evoluzioni tra l'altro lo rido perché in questi giorni nella mia città c'è una rievocazione medievale l'ultima volta che c'è stato un cambio in panchina ero fuori a pranzo nello stesso ristorante nel quale sarò stasera dove non vedrò la finale di Champions e al dolce sono dovuto scappare fuori per registrare un video perché c'era stato l'annuncio ufficiale di Sarano a Juventus andatevi a vedere l'annuncio ufficiale di Sarano a Juventus sul mio canale sono in un vicolo con una maglietta di una rievocazione medievale che parlo e vi dico stavo mangiando il dolce mi sono alzato perché c'è stata l'ufficialità quindi vediamo se stasera ci può essere la stessa cosa arriva il dolce nello stesso ristorante durante la stessa festa sono costretto ad alzarmi per dirvi scusate stavo mangiando il dolce ma c'è un annuncio ufficiale della Juventus di Sarano a Juventus grazie a tutti